Noi lo dicevamo già un anno fa, la soluzione per la città di Trieste è la città metropolitana e dopo le polemiche dell'anno scorso il Partito Democratico l'aveva anche inserita nel proprio programma elettorale. Chiunque anche all'interno del mio partito difenderà l'Uti Giuliana a discapito della città metropolitana priverà Trieste di una straordinaria opportunità. Così in una nota il senatore triestino del PD Francesco Russo dopo la presentazione da parte del consigliere comunale Marco Toncelli di una mozione urgente in comune per chiedere la calendarizzazione e la discussione del progetto di città metropolitana. Tornare a ragionare sulla vocazione di piccola capitale d'area, si legge nella nota di Russo, indica per Trieste una necessità urgente per dare nuovamente l'infa vitale ad un territorio che vive a una fase di lento declino e ciò vale non soltanto per la città. Già che, prosegue Russo, l'intera regione cerca strumenti appropriati per valorizzare le proprie eccellenze a vantaggio dei cittadini. Con 50 milioni di fondi europei a disposizione da investire in edilizia popolare, aree verdi, strade, Trieste potrebbe dunque pianificare assai meglio rispetto alle Uti che tagliano fondi il proprio futuro. E, sottolinea ancora Russo, già che il progetto faceva parte del programma di governo di Roberto Cosolini ed è stato sottoscritto dal sindaco di Piazza assieme a 5 mila Triestini, ora che le Uti stanno dimostrando tutte le proprie contraddizioni, bisogna passare dalle parole ai fatti senza sprecare ulteriore tempo. Il Partito Democratico non può rimanere a guardare, ma possiamo offrire questa soluzione. In un tempo poi dove vediamo che c'è anche l'attenzione di Mufalcone, già coinvolta in progetti di più ampio respiro, nella logistica e nella portualità. Quindi addirittura il perimetro istituzionale potrebbe andare oltre i confini territoriali dell'ex provincia.